we bella a tutti ragazzi prima di andare a vedere il video voglio ricordarvi il mio codice creator xyuderone grazie mille per il vostro supporto attenzione ogni 14 giorni scade quindi non dimenticatevi di controllare se ce l'avete e ovviamente mandatemi una storia su instagram uno screen quello che volete io vi reposterò ma adesso video what the fuck oh quello è uno snappo c'ha la mamma un po' lì la sua mammina lavora nelle vie se più snappi avessero mamme incredibili avremo più debito pubblico perchè fan tutto in nero andiamo amigli 00 secondo mese puoi salutare emi la mia ragazza ciao emi la mia ragazza ciao ciao emi gente arrivo piano 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 no no fanti te non hai un'idea di come dai porco dio ma perchè mi muore ogni fight porco dio sud地 lascia food e Meg e beş glop covered la acc è 1, 2, explode! Dormi sepolto in un campo di grano e ti si frizza tutto Fortnite perché non sanno che bug inventare e allora io li mando a cagare Forza Epic Games, muoviti ora e dopo un bug ce n'è un altro ancora siamo arrivati alla season 17 Ma se andiamo avanti così io mi guardo le temi Ma dove va? Ehi, ci ho ancora i piedi un attimino Scusi Ci ho ancora i piedi un attimo ghiacciati Stia lì buono un secondo Aspetta l'aspetta Vada solo Qua sta facendo, sta ballando No! PIZZA! Ma si che salti con le uova Secondo me non è giusto Ok, c'è un'altra C'è uno spazio qua Spero c'è un tizio presa Io con testarmi non è che sono molto forte No! Oh, let's go! Ma hai visto dove c***o è passata quella freccia in mezzo al coso? Ahia! WTF! C'è la zona? Avrei preferito sinceramente che quest'arco fosse un arco incendiario Ma non ci preoccupiamo Che ore sono? Io ho 22 Terzo mese Capisci Canti questo Cos'è? C'è una faccina che ride a crepa pelle Quello che fa poco secco Quello che fa poco secco No raga Registrano bait Allora, uno Subito al due Bello col tre Angolo per il quattro Il numero cinque Il numero sei Ricorsa per il sette Boost Il numero otto Il numero nove Il numero dieci Il numero undici Il numero dodici Ed eccolo qua! Sotto il c***o! No! Pozzo di merda! Pezzo di merda! Ahah! Ahah! Sotto il c***o! No! No! In terra ho passato una poca sull'imattore Oh, come c***o! Perché ho d'... Ma sono i mattori! sinceramente non la capisco perchè sono andato a fuoco che ero in mattone l'arconfigato ha rotto veramente la minchia raga ha rotto veramente la minchia no raga no raga non sono in grado no raga sotto la porta non è fattibile no raga non sono capace no non sono non sono capace entra cazzo eccolo eccolo in queste condizioni non posso streamare rotto lo signore sotto porca p***a ciao bello oh grazie dovevo picconarti lol ciao notiamo il ragazzo che è passato a farsi salutare grazie a tutti grazie a tutti